qua c'era già lo spoiler del proseguo del documentario con un po' di festa perché poi la reazione è questa è dire cosa abbiamo imparato da Salvatore cantiamo portiamo qualcosa che permetta veramente di di provocare nel modo migliore questa sensibilità odierna come con la festa pensate alla radice della parola infestante perché le piante più forti sono infestanti perché festeggiano hanno una festa costante portano una festa e quindi cos'è il risultato di infestare cioè quale strategia migliore di di coinvolgere se non la festa e di nuovo siamo in un posto dove questa cosa siete voi a insegnarmela dove c'è il contenuto ma c'è la festa non possiamo fare a meno di questo condimento ci serve e adesso facciamoci un applauso perché tutta questa energia arrivi da qualche parte perché questo allora adesso vi racconto di come abbiamo preparato la festa a partire dal 2017 perché in buona sostanza prospettive vegetali nasce da una da un'esigenza di immaginarsi competitivi in avvicinamento a un momento storico che era inevitabile che era quello in cui il denaro avrebbe cominciato ad essere interessato alle questioni ambientali era inevitabile si sarebbe arrivati fin qui e quindi nel 2017 nasce spontaneamente nell'osservazione di questo problema dapprima nel rilevare che essere un giardiniere ed un paesaggista non poteva essere un'unica un'unica possibilità perché il giardiniere guarda all'architetto del paesaggio come una persona che non ha conoscenze di relazione con la pianta e viceversa il paesaggista non crede una persona dotata di intelligenza al giardiniere questo errore sociale che banalmente è anche identificabile nella differenza proprio culturale tra nord e sud dove c'è un'estetica che governa l'economia botanica al nord e c'è l'agricoltura che invece fa da traino per le politiche legate alle piante al sud più che i giardini ornamentali tutto questo aveva bisogno di un volontario mettiamola così che si prendesse la briga di fare una ricerca su scala nazionale e che potesse parlare ad entrambe le come dire le parti facendole accorgere di ciò che manca l'una all'altra e quindi di cominciare a far nascere politiche a vantaggio delle piante quindi io tutto questo ci tengo a a farlo partire però da 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 una confessione mettiamola così cioè dal fatto che io dopo il liceo dai 18 ai 20 anni ho avuto proprio quasi la sindrome di ikikomori quelli lì che si chiudono in casa e stanno solo su internet è un po' esagerato perché comunque io ho sempre avuto le mie vie di fuga ma era veramente una malattia io non ho avuto qualcuno che mi ha detto tu hai questo problema legato al virtuale quindi devi fare no io tutte le mie faccende insomma anche grosse le ho sempre affrontate personalmente e con la mia famiglia quindi la come dire la fortuna è stata quella di essere osservato da chi mi voleva bene in quella fase ma non condannato né fatto sentire un malato uno diverso uno con dei problemi questa cosa mi ha permesso poi di essere vabbè spedito a calci in culo in America perché ovviamente finché non mi hanno parlato dell'America io non sentivo non esistevano poi mi hanno detto senti ma in America primo istante in cui ho scollato gli occhi dallo schermo che ormai mi aveva completamente sequestrato in America scopro di essere delvaggio vivo praticamente per strada insieme agli homeless insomma mi rendo conto che la distanza da dove ero partito mi permetteva davvero di superare qualsiasi limite che invece in Italia avevo scriverò delle cose prima o poi su tutte le varie vicissitudini acceleriamo perché se no e quindi poi quando io torno in Italia e comincio un percorso in cui da prima faccio giardiniere quindi la soluzione io alle 6 del mattina mi alzo tra l'altro ho fatto un periodo anche ad alzarmi alle 5 per fare l'edicolante aiutando mio padre e poi andare a fare giardiniere 6 e mezza e quindi 6 e mezza io già sono in campo cellulare non lo vedo più mi dimentico di mangiare di pisciare cioè proprio boom boom in mezzo alle piante e lì io avevo trovato per certi versi una quadra stiamo parlando dai 23 ai 26 stavo a Roma lavoravo anche a Roma quindi in buona sostanza io dico ah vedi ho trovato la risposta io sto tra le piante non mi faccio domande non finisco la dentro a cuocermi i neuroni e sto bene fino a che comincio a farmi delle domande rispetto a cosa sono le piante perché comunque lavorare così era un comunque era comunque un 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 penalizzare le piante quotidianamente comunque era andare a sottrarre una parte del corpo vegetale in tutti i luoghi taglia il prato pota e quindi io ho detto tutta sta roba è così necessaria cioè queste piante hanno bisogno di tutti questi tagli di tutte queste cose o forse c'è un'economia che da lontano condiziona il fatto che noi tagliamo sette volte il prato siccome avevo ancora comunque 25 26 anni mi sono detto beh ho tutto il tempo del mondo per non andare su google a cercarla la risposta posso mettermi in viaggio e andare a cercare una risposta molto complessa perché risposte rapide non mi hanno mai convinto li ascolto sempre volentieri ma prima che radichino ce ne vuole e soprattutto ci vuole l'incontro insomma perché una cosa possa insinuarsi come qualcosa di credibile e quindi ho detto bene scopriamo un po' come posso rendere la mia insomma la mia vita disponibile per fare questo genere di ricerca l'idea è stata quella di investire tutto quello che avevo diciamo nel lancio di questa idea dicendo io ho in tasca 2000 euro se quello che riuscirò a fare proprio in termini di interviste argomenti sollecitazioni se questo mio sforzo lo riterrete utile vi chiedo di restituirmi quei 2000 euro che io comunque investirò io li spenderò tutti se poi quando li ho finiti di spendere me ne ritrovo di nuovo in tasca li rispenderò e continuerò così era il 2018 siamo ancora in ballo perché innanzitutto c'è stata una risposta di donne solo donne diciamolo della fascia d'età diciamo di chi poi detiene la maggior parte delle economie di questo paese che hanno cominciato ad avere il coraggio di investire i propri capitali su questo progetto in mezzo a proprio un uno sforzo proprio invece di rivolgermi al mio genere per fare la stessa cosa perché dall'altra parte che c'è proprio davvero la grande massa critica di investimento che va da un'altra parte quindi è logico la sensibilità di ciò che portiamo a noi è più affine all'energia femminile però il fatto è stato che per due anni quindi fino a lockdown io ho investito circa 15.000 euro raccogliendone 12.000 in forma economica ma senza considerare che ho vissuto tre anni per strada ospitato e vinto alloggio da follia di persone quindi in realtà sì sulla carta risultava che non avevo coperto tutte le spese ma in realtà le avevo abbondantemente superate cioè era un'economia talmente sana che io mi sono permesso di prendere un microfono questo video prima o poi salterà fuori a piazza affari informandoli che tutto quello di cui i grandi filosofi che erano stati invitati per parlare di economia parlavano io lo stavo già mettendo in pratica umilmente non senza dire posso cambiare il mondo però gli dicevo se vi interessaste io sto mettendo in pratica questioni che partono da un'osservazione delle dinamiche così come fa un giardiniere e fa funzionare le relazioni e quindi l'economia come relazioni quindi questo questo progetto poi diventa un documentario diventa un documentario perché a prenderci la mano incontro davvero talmente tante menti biodiverse che conoscono la pianta in maniera raffinata ma diversa da ognuno degli altri elementi che dico bene adesso non mi fermo più cioè qua come faccio a far uscire un documentario sulle relazioni tra umani e piante che non contempla le persone che per esempio trovano un'attrazione erotica verso la pianta mancherebbe qualcosa mi viene in mente un'altra cosa completamente isolata dalla pianta che può essere messa in relazione se manca non abbiamo finito il lavoro quindi quindi si arriva fino al momento in cui devo decidere di mettere un fine a questa esperienza di ricerca almeno per dare un abc quindi seleziono 60 tra le oltre ai tempi erano 260 interviste ne faccio un documentario di un'ora e venti lo distribuisco gratuitamente su youtube lo trovate botanica per tutti questo documentario esce il 30 marzo 2020 in pieno lockdown tra l'altro ma qualcuno ho già raccontato come a inizio marzo cioè scusa a fine febbraio 2020 io ero in certi versi nelle nelle grazie del sistema perché perché insomma ero ero evidentemente chi di slancio portava ad accendere l'interesse verso i temi realmente ambientali perché si era mosso aveva toccato tutte le regioni italiane quindi naturalmente non è un algoritmo che ti porta ad essere ascoltato ma è proprio un movimento del tuo corpo che va a incontrare occhi nasi bocche quindi di slancio io fui l'ultimo a intervenire a questa conferenza di tre giorni con i giovani botanici italiani laureati e laureandi all'università di Genova ho chiuso da non laureato le tre giornate di studio così come la settimana dopo ero articola di Lombardia a ricordare loro che i Savoia fondarono la loro associazione a fine ottocento per premiare anche con doni in denaro gente come me siccome avevo trent'anni meno di tutti quelli in platea e sembravo no ok quindi vi stavo dicendo appunto che sembravo un po' come si chiama la mascotte no il mondo che c'era prima un personaggio così come ve lo sto raccontando sarebbe molto piaciuto come mascotte non vedevano l'ora che comparisse no da tenere lì giovane no ecco io sono andato a dirgli ragazzi chi ha fondato la vostra associazione aveva ben presente che questo genere di di process di process vanno premiati vanno supportati cioè voi siete nati per questo niente poi c'è stato ovviamente il blocco e e a quel punto la faccenda si è fatta più seria cioè hanno detto bene se adesso io non ho più niente da perdere perché tanto queste queste situazioni non mi non mi non sono più interessate no non posso aprire a veramente un dialogo complesso con il vegetale quindi abbiamo cominciato a lavorare per la la verità rispetto alla cannabis come prima mossa proprio per cominciare a informare che questo progetto non si sarebbe non avrebbe girato la testa davanti a determinati temi e e questa cosa ovviamente ha cominciato a essere studiata ed usata per le strategie che vediamo in tv io sono nei radar di queste sensibilità come vi dicevo da prima del lockdown e infatti infatti la seed challenge che ha permesso al sottoscritto di crescere da 1000 a 12.000 follower su instagram è stata l'esperienza che è nata da una mia storia in cui il terzo giorno di quarantena mi sono detto adesso condivido questa storia in cui dico non rompete perché tanto il tempo non lo sappiamo quanto dobbiamo rimanere buttate un seme nella terra e condividete la il processo io ho sfidato tutta Italia a mandare insomma la propria il proprio antidoto al tempo da passare in un modo che sembrava prigionia perché loro cioè perché era naturale percepire che quella fosse prigionia ma se tu sai giocare sempre ribaltando le questioni prigionia non era anzi era un'occasione di ascolto di incontro con sensibilità più lente e quindi ho detto vediamo quanti sono a sfidarsi come come me anzi la mia sfida era addirittura fare questa cosa sui social perché io cioè paradossalmente non ne avevo bisogno di verificare che questa roba mi appartiene quindi ho detto vediamo se essere a disposizione di persone che si ritroveranno sui social può essere utile perché si innesti un discorso reale di relazione con esseri terzi ancora da noi che però vanno a quel ritmo a cui noi non siamo abituati quindi quale migliore occasione per lavorare su un incontro con il vegetale come lockdown questo infatti si è rivelato poi nelle relazioni reali che sono venute a cercarmi dopo la riapertura cioè le persone che hanno condiviso con me le storie su instagram sono persone che mi amano quanto io amo loro perché vederli incontrarli è una rivelazione perché si è costruita una relazione empatica autentica nell'usare il tempo attraverso uno schermo con un garante d'eccezione che è il vegetale e che è reale questa cosa a questa cosa poi si è aggiunta la musica delle piante se già questa cosa era stata veramente grossa perché appunto io mi sono ritrovato in empatia virtuale con una decina di migliaia di persone in più rispetto a quelle che c'erano prima che però poi hanno cominciato a dirmi adesso ci dobbiamo conoscere ti devo dare i peperoncini che sono cresciuti da quel seme ti devo dare no? e quindi in parallelo a questa cosa che è cominciata a succedere io vabbè dai ve lo racconto perché è bello io l'ultimo giorno di quarantena sogno il posto dove avrei dormito il giorno dopo con le regioni libere e quindi parto incontro questo luogo e inizia inizia un'esperienza radicale fortissima meravigliosa che è vivere in macchina io dal giorno 2 giugno l'apertura delle regioni dopo il primo lockdown ho cominciato a vivere in automobile azzerando completamente ciò che riguardava il mio progetto ma per ricominciare attraverso queste relazioni che mi chiedevano banalmente di verificare chi era poi la persona la quale si era come la quale si era costruita questa cosa in uno spazio neutrale in cui non hai nessuna certezza di chi ci sia dall'altra parte e quindi io ho detto bene la mia priorità è incontrare le persone con cui sta succedendo questa cosa e quindi e qui e qui si rivela la community cannabica la community cannabica era è forse ancora la più reattiva in assoluto a questa stretta evolutiva cioè il fatto che noi abbiamo usato siamo stati un po' forzati ad andare in quella direzione è un qualcosa che ho rilevato che chi comunque ha una relazione con la cannabis proprio nel suo uso diciamo psicoattivo che permette a questa community diciamo di essere subito reattiva cioè hanno riaperto le regioni dopo dieci giorni c'era una manifestazione davanti al Parlamento per dire io coltivo le piante di cannabis per farne l'uso che preferisco cittadina disobbedienza civile dieci giorni cioè ma non aspettavano altro di farsi vedere subito compatti e dire bene avete mescolato tutte le carte le uniche che non siete riusciti a mescolare sono queste perché questa storia somiglia tremendamente a una separazione sociale che è in atto da quanti da un secolo quindi c'è gente che subisce una discriminazione da talmente tanto tempo cioè se 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 chi subisce una discriminazione conosce la storia della propria discriminazione qualsiasi essa sia quando gli si ripresenta una storia davanti non si fa fregare rimane compatto anzi si rafforza e questa e questa cosa è effettivamente ciò che da ricercatore etnobotanico dopo anni spesi a incontrare sensibilità legate a tutte le piante ho rilevato istantaneamente ho detto eccovi ecco chi è pronto a essere già compatto per arrivare a un obiettivo dopo questa storia allora in virtù di questa cosa io comincio a creare negli ultimi due anni io praticamente essendo che poi il discorso economico e di e di come dire di supporto dall'esterno proprio delle strutture è venuto a mancare clamorosamente perché io ho cominciato appunto a essere incisivo anche su certi temi che potenzialmente mi rendono un po' più ostile verso che ne so scuole non lo so c'è sempre un minimo di di questa cosa qua e quindi io ho provato a avere nel mio arsenale talmente tante talmente tanti strumenti da adeguarmi di volta in volta quindi la progettualità della musica delle piante è stata un'altra aggiunta dopo il documentario che mi ha permesso effettivamente di di andare a rivolgermi a chiunque perché con la musica che infatti oggi c'era ha visto proprio come questa cosa possa essere avvicinata da chiunque e con pazienza viene fornito un un linguaggio un un approccio utile a rendersi conto che comunque una comunicazione c'è poi è tutto da affinare col tempo eccetera quindi negli ultimi due anni io pedalato soprattutto ho fatto un viaggio in bicicletta su una bici di bambù presa a Catania portata a Varese andata e ritorno facendo una ventina di eventi in undici regioni l'anno dopo con la mia bici non di bambù ho rifatto la stessa cosa quest'anno anzi quest'anno ma ci arrivo dopo quest'anno è un'evoluzione degli ultimi due anni passati a fare eventi così come come adesso diciamo però concentrandoci sulla proiezione del documentario l'esperienza della musica delle piante e in generale aggiungere qualcosina rispetto a come io vivevo queste cose però erano i due format principali proiezione documentario e musica delle piante di ritorno da il secondo no sì nel 2020 cosa è successo che c'è stata la possibilità di provare a fare un progetto a Varese di fianco di fianco a un'aula studio storica per aggiungere un orto sinergico e ci avevano già detto che l'idea di togliere l'asfalto e metterci un orto sarebbe stata premiata con un finanziamento 5.000 euro sì 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 ci chiamano poi ci dicono insomma alla regione Lombardia servivano i soldi non possiamo usarli per spaccare l'asfalto però però siccome riteniamo che tu meriti di essere comunque coinvolto ti diamo 500 euro fai due corsi e basta io gli ho detto allora io i 500 euro li accetto solo se mi date la possibilità di provare a usarli per insegnare ai ragazzi che coinvolgeremo a raccogliere i soldi che non ci sono più questa cosa ci è stata concessa e siamo riusciti in questa impresa quindi con 500 euro tra l'altro che io ho diviso con con Giorgia Rossi orti sensibili abbiamo deciso che appunto non era il fatto che qualcuno ci desse dei soldi per fare un progetto ma che lì dovevamo riuscire a fare quello spacco dell'asfalto e metterci degli orti quindi io mi sono occupato di insegnare a 30 ragazzi a usare i propri social per mandare in porto una raccolta crowdfunding necessaria a spaccare l'asfalto e metterci un orto Giorgia si è occupata di portare le persone a immaginare come tramandare questa cosa nel tempo con la manutenzione l'innesto e i lavori anche questa è una storia un po' triste che infatti renderò triste brevemente questo posto è chiuso perché ovviamente a Varese ci sono delle politiche che se hai un aula studio in cui da 20 anni i ragazzi si trovano bene tu devi cominciare a tenerla chiusa in modo che l'investimento ricada sull'Accademia Svizzera che porta i milioni per costruire un aula studio in un posto dove chissà in quanto tempo si aggregeranno le persone se si aggregeranno e se mai la costruiranno ma intanto resta tutto chiuso con un orto sinergico che è finito sulla RAI per quanto insomma sia una cosa probabilmente importante tra le righe mi hanno cercato anche dal governo centrale per rendere sistemica questa operazione io gli ho detto mi spiace ma io aspetto 10 anni di fare questa cosa con le persone che ho davanti allora l'orto sinergico è una metodologia diciamo di coltivazione che è una specie di innesto che va a alimentarsi nel tempo cioè nel senso tu fai dei bancali si chiamano solitamente bancali che riempi di materiale organico che ancora è da che deve ancora vivere il processo di marcescenza di composizione quindi in buona sostanza tu negli anni senza fare nuove aggiunte quindi anche mantiene proprio l'umidità e tutte queste cose quindi anche con poca risorsa idrica tu vai ad arricchire il terreno ma in modo naturale quindi si disgrega pian piano il nutrimento e le piante quindi anzi si armonizzano sempre meglio negli anni rispetto a ciò che sanno che si rilascerà nel tempo quindi si si organizzano diciamo e ok quindi questo è il progetto tra virgolette con cui poi effettivamente da giardiniere paesaggista che vi ho detto all'inizio ero dopo le ricerche sono riuscito a esordire dicendo ecco perché ho fatto delle ricerche cioè adesso tu non mi puoi venire a dire sei un folle perché vuoi spaccare l'asfalto no c'ho 360 esperti che ti confermano che le folle non sono anzi ok quindi questa cosa di nuovo è in attesa è in attesa di essere liberalizzata in processi dal basso cioè io questa cosa l'ho fatta in anticipo cioè l'ho fatta insomma siamo riusciti a farla succedere in un posto dove c'è la provincia più asfaltata d'Europa degli ultimi vent'anni cioè io questa cosa l'ho fatta proprio come manifesto di una reazione sociale perché a Varese probabilmente le persone sono già disponibili a parlare di fermare il cemento per i prossimi dieci anni e io ho detto no no raga io non ci posso stare a sto compromesso di aspettare che rallentino no 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 mettiamo lì le basi perché questa roba ce l'andiamo a riprendere perché se no aspetti quindi quindi questo quindi fare questo gesto e difenderlo in attesa di politiche autentiche che possano renderlo sistemico dopo l'attacco è comparsa insomma il bisogno di difendere la difesa invece è un argomento molto più piuttosto allora 30 dicembre 2020 73 73 pini sani abbattuti a vieste prima denuncia a canali spianati da parte nostra di questa situazione minacce minacce insulti pesanti sono saltate fuori tipo parole come ambientaloidi questo genere di di accanimento da parte di chi era poi responsabile di una di un danno enorme alla propria cittadinanza economico tra l'altro tra le tante questioni dannose di un abbattimento del genere io intervisto come reazione a questa cosa Luigi Strazzabosco che è stato premiato nel 2018 come il l'arboricoltore capace della più importante innovazione nel campo mondiale per aver salvato oltre 250 pini rendendo la loro stabilità migliore del 120% rispetto a come stavano prima un italiano io intervisto questa persona con dall'altra parte un sindaco che si rafforza per la rabbia che butta sui cittadini che gli dicono sei un mostro hai ucciso 73 piante giustificandolo con praticamente cioè lui dice praticamente sosteneva che moriva un anziano al giorno perché inciampava sulle radici questa era la motivazione muoiono si feriscono e quindi 73 piante via ciao con il vicino di casa che è stato premiato nel mondo per salvarne quattro volte tanto rendendole più stabili facendo sparire il problema delle radici questa cosa noi l'abbiamo già fatta nel 2020 cioè noi abbiamo già vinto nel 2020 facendo questa cosa il problema è che ovviamente dal 2020 ma da prima è tutto preparato perché questa cosa non emerga cioè io facendo questa ricerca a partire dal 2017 ho scoperto che loro potenzialmente non mi danno neanche fastidio nel senso proprio di cercare di danneggiare quello che si fa ma perché perché hanno già pensato tutto cioè c'è talmente tanto una direzione unica perché il flusso monetario vada a livello proprio a livello di investimento sull'ambiente in una unica direzione che 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 anzi che provare a contrastare quella roba è alimentarla è fargli un favore entrare in un dissing con questo sindaco a Vieste è stato un vantaggio cioè noi abbiamo rafforzato questa persona però dall'altra parte abbiamo rivelato a chi lo vuole sapere che cioè che lui non ha torto di più cioè noi potenzialmente l'abbiamo già umiliato l'abbiamo già umiliato cioè lui non 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 ha più nessuna credibilità se non verso le persone che vivono nella sua città perché ci sono strategie specifiche legate al locale perché le cose riguardino solo il locale questa è l'altra cosa importante che io sono testimone vivendo così che faccio battaglie ambientaliste locali ovunque e quindi vedo la stessa identica strategia e vedo lo stesso identico problema in chi sta in un luogo senza vedere che è la stessa identica cosa di volta in volta perché tu non vedi la relazione con un altro luogo in cui fanno la stessa identica cosa la stessa identica cosa